Uno spazio nel centro di Condove, la piazzetta dove sorge il monumento ai donatori di sangue della Fidas, da qualche giorno a un gioco della dama gigante, Amplein Air. Inaugurato dal sindaco di Condove Jacopo Suppo e dalla presidente della sezione Fidas Capri e Condove Maurizia Gatti, è un luogo di aggregazione e di riposo per adulti e bambini. Le pedine sono realizzate con materiali di recupero e il pavimento si presta alla perfezione grazie alle caselle bicolore. Alla dama gigante si può giocare con un bastone uncinato. Giocare a dama ma soprattutto Maurizia ricordiamolo, a tutti coloro che vogliono donare il sangue, è importantissimo. Sì, a tutti coloro che vogliono donare il sangue e questo è una cosa importante, una cosa che fa bene sia a noi stessi sia al prossimo. Gli appelli, sapete, sono sempre tanti. Io lo rifaccio, questo appello, perché insomma di gente che ha bisogno della nostra goccia, chiamiamola anche solo goccia, ce n'è tanta purtroppo e meno male che ci sono i donatori.